Una cogliona proprio, una cogliona, stronzo. Devi passare davanti per forza. Poi dici che a una certa età non va ritirata la patente. Eh, faccia la lettre deficiente. Con quella è guidare a te. È snervante, caotica. Dai, verde, verde, sveglia. Amavo tantissimo guidare. L'ultimo così cambia, prima, seconda, prima, seconda, prima, seconda. Quindi sono incattivito. Sì, no, fai come cazzo ti pare. Tanto c'hai la macchina grossa, vero? Coglionazzo. No. No. Escluso. Ma di che? Servirebbe un'auto con le ali? Quello sì, quella ma cambierebbe la vita, no. Assolutamente no. Facciamo passare i pedoni, siamo finiti, eh? Eh, lo dico, eh. Quando abbiamo chiesto i partecipanti di riflettere sulle esperienze con la hybrid versus la non-hybride, quasi universale, i partecipanti hanno riportato la hybrid per essere una esperienza più positiva. In realtà hanno riportato di sentire meno stress, meno frustrati, meno angeli, e in realtà calma e più felicità, per guidare a la hybrid. Ero più rilassata, sentivo proprio il mio viso, più rilassato. Una bella sensazione. Sento le voci fuori. Sembra quasi che ti conducono, per cui le tensioni che hai nel guidare sembra che svaniscano. Questa è una macchina che ti coccola. Sento coccolata. Vabbè, attraverzzate, attraverzzate. Sto così bene. Però è molto piacevole. Beh, un altro mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.